Oggi parliamo con Paolino Marotta, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici, un'associazione storica nata nel 1988, quindi ha più di 30 anni di vita. Perché parliamo con Paolino Marotta? Perché nelle settimane scorse, il mese scorso, l'Andis ha proposto a tutti i dirigenti scolastici associati di rispondere ad un questionario sulle difficoltà che si stanno incontrando nelle scuole con il rientro a scuola e quindi con l'organizzazione anche della didattica a distanza e così via. Allora Marotta, dici un po' quali sono i punti di questo questionario, grosso modo, e poi li esaminiamo uno per uno? L'Andis era interessata a conoscere se i colleghi avessero incontrato le criticità che noi avevamo ipotizzato già in estate e quindi abbiamo voluto esplorare alcune situazioni molto scontate, la consegna dei banchi, la consegna del gel, delle mascherine, dei dispositivi, l'avvenuto realizzazione dei lavori di manutenzione di edifici, ma anche i problemi dovuti al trasporto scolastico e soprattutto i problemi dovuti nel settore dell'organizzazione e anche il rapporto ai servizi sanitari per quanto riguarda la gestione dei casi da contagio di alunni, lavoratori con fragilità e genitori. Senti Presidente, ma quante risposte avete avuto voi al questionario? Abbiamo avuto circa 400 risposte da tutte le regioni d'Italia, da colleghi iscritti in tutte le regioni d'Italia, quindi un campione che consideriamo molto significativo e rappresentativo di tutte le situazioni che si sono vissute negli ultimi due mesi in tutte le regioni d'Italia. Ecco, quindi allora vediamo un po' nel dettaglio quali risultati voi avete riscontrato. Ecco, per esempio una prima cosa interessante è questa, questa è una slide proprio ripresa dal documento che voi avete diramato in questi giorni. Allora, la consegna dei banchi monoposto per esempio pare che non sia andata poi così magnificamente bene perché nel 30% dei casi, ad esempio, ci sono stati dei ritardi, addirittura nel 44% dei casi ancora non è stata effettuata. Ecco, come commenti questo dato? Quali ripercussioni ha avuto questo problema della mancata o della tardiva consegna dei banchi alle scuole? Eh beh, era molto discusa la possibilità che il commissario riuscisse, era già nei fatti, no? Che non ce la potesse fare il commissario Arcuri a consegnare i banchi entro l'inizio dell'anno, lo aveva annunciato, però la data promessa di ottobre anche quella è saltata, quindi c'è una buona parte delle scuole che ha dovuto rinunciare ai banchi monoposto. Si è arrangiata, non è che in quelle scuole le attività non si sono avviate, si sono avviate con tutti i sistemi di escomodaggio che sono riusciti a trovare i colleghi, anche perché si sapeva dall'estate il vero problema delle scuole, della riapertura, non erano i banchi, potevano anche non ordinarli 2 milioni e 8 di banchi, si sarebbe risolto lo stesso la situazione. I lavori che ci aspettavamo di adeguamento e di manutenzione, che erano stati promessi in sede di conferenza nazionale e anche sui tavoli regionali, poi non si sono realizzati, in buona parte d'Italia non si sono realizzati. Se andiamo alle slide, se vai più giù alle slide regionali, dove possiamo esplorare per regioni, noi abbiamo preso sei regioni rappresentative, vediamo che l'esecuzione in Lombardia non per niente effettuata riguarda il 17% delle scuole, significa per il restante 83% delle scuole ci sono stati interventi. In Veneto per i 50... ecco, la non effettuazione riguarda solo il 16%, i dati riguardano altre regioni del sud, come la Campania, la Sicilia, dove i lavori non sono stati per niente effettuati per il 36% e per il 39%, questo dice come le differenze territoriali hanno inciso anche su questo aspetto. L'altro problema che voi avete evidenziato con il vostro questionario riguarda un tema che anche qui è stato molto discusso, cioè la connessione a livello di scuole e di territorio. A quanto pare almeno la metà dei dirigenti scolastici che hanno risposto, il 45% per essere esatti, parlano di una connessione molto problematica. Molto scadente, sì, problematica per il 45% dato medio nazionale, però è molto più problematica in Veneto, in Sicilia, in Campania dove raggiunge il 50% delle risposte, quindi è uno dei temi che dobbiamo affrontare, che il governo dovrà affrontare anche con i finanziamenti del recovery plan per dotare di connettività di buona qualità l'intero territorio nazionale e quindi anche le scuole. Certo, a questi problemi però se ne aggiunge ancora un altro che riguarda il rapporto con le aziende sanitarie locali. Anche qui vediamo che le segnalazioni di quarantene o di isolamento da parte delle autorità sanitarie non sono poi così tanto soddisfacenti, molto spesso sono tardive, il 40%, alle volte sono addirittura inesistenti, cioè in un caso su tre sono inesistenti e soltanto in un caso su quattro avvengono nei tempi, quindi anche questo ha comportato non pochi problemi. Questo aspetto non era stato previsto nella progettazione della ripartenza, tutti quanti immaginavamo che si tenesse fede a quegli accordi presi a livello nazionale anche con ANCI all'interno delle cabine di regia regionali che sotto l'aspetto sanitario non ci dovessero essere problemi, che la comunicazione tra le amministrazioni potesse avvenire nel modo più efficace possibile. Ciò non è stato, per ovvi motivi sappiamo tutti come si è saltato il problema del tracciamento ma è saltato anche il problema della più semplice comunicazione tra uffici. Senti, ma anche per quanto riguarda il rapporto fra scuola e aziende sanitarie locali, voi avete riscontrato delle differenze fra regione e regione? Sì, il dato nazionale è che soltanto il 24% delle ASDE o delle USCA, tutte le organizzazioni messe in piedi dal settore sanitario, siano state sollecite nella segnalazione di quarantena o di positività. Il dato è molto differente sui territori regionali e stupisce che sia negativo in Lombardia e in Emilia Romagna dove le comunicazioni, ma anche in Friuli, che abbiamo visto regioni che sono state virtuose per altri aspetti e mentre su questo aspetto sanitario della comunicazione sanitaria sono stati veramente inefficienti. Senti, veniamo all'ultimo problema che voi avete preso in esame, che forse è un po' il problema dei problemi, probabilmente non tanto nelle scuole del primo ciclo ma poi forse soprattutto di più nelle scuole del secondo ciclo, cioè il tema del trasporto pubblico locale. Anche qui vediamo che quasi il 40% indica questo tema come un tema molto problematico e soltanto il 32% dice che si tratta di una cosa non problematica. Quindi anche questo non è un buon segnale. questo non è un buon segnale però ecco, questo è come dire, questo aspetto è stato rilevato nella medesima proporzione in tutta Italia perché tutte le tavole che abbiamo davanti delle sei regioni, Lombardia, Veneto, Campania, Sicilia, Friuli, Emilia Romagna, prese a campione danno il medesimo risultato, cioè i rispondenti si sono divisi in tre parti esattamente uguali intorno al 30-31%, quindi il problema è stato molto problematico in genere per un terzo delle scuole, poco problematico per l'altro terzo, assolutamente non problematico. quindi questo dato noi dovremmo esaminarlo distinguendo i rispondenti che presiedono scuole del primo ciclo da dirigenti che presiedono scuole del secondo ciclo. Ecco, ma detto tutto questo, cioè quindi esaminati, presi in esame un po' tutti i problemi che voi avete riscontrato su cui avete raccolto questi dati decisamente interessanti che peraltro poi, diciamo la verità, confermano un po' quello di cui avevamo già... Ecco, quello che ci aspettavamo. Voi avete il merito, insomma, di averli un po' anche quantificati. In una delle slide del vostro documento voi avete fatto un elenco di proposte. Allora, diciamo quali sono le due proposte principali? Mi sembra di capire che voi proponete di valutare la possibilità di fare una sorta di alternanza. Di che cosa si tratta con precisione? A cosa pensate? Beh, è una ipotesi che è stata discussa in queste ultime settimane. Di fronte all'impossibilità di tenere tutti gli studenti o gli alunni a scuola, la possibilità di utilizzare per periodi alternati le aule e quindi la didattica in presenza. Ci sono state studiate durante l'estate diverse modalità di alternanza, tra gruppi, tra periodi di permanenza a scuola o a casa. I rispondenti, soltanto per il 17%, sarebbero d'accordo a chiudere tutto, quindi a mettere tutto in DAD. Questo è un dato che potrebbe interessare i presidenti di regione, che di fronte al rischio di contagio pensano immediatamente alla scuola come fonte di contagio da bloccare. Invece i presidi, e quindi sono anche rappresentativi delle comunità che dirigono, soltanto per il 17% dicono sarebbe il caso di ricorrere alla didattica a distanza, quindi chiudere tutto. Senti, presidente, quindi da tutto questo, cioè dai dati che avete raccolto e anche sicuramente dai contatti che voi avete avuto con i vostri colleghi in questo periodo, che cosa ne possiamo ricavare? Cioè quale sensazione voi avete delle comunità scolastiche come hanno operato in questo periodo? Cosa ne possiamo dedurre? Si va avanti così, per tentativi ed errori, con lo sforzo sovraumano dei colleghi e dei docenti, di tutto il personale ATA che ha raccolto questa sfida, è davvero una comunità scolastica, una comunità allo stremo ma che lotta, che accetta la sfida, non accetta la spugna. Questo è il segnale che ci viene anche da questo sondaggio, lo sapevamo perché abbiamo contatti giornalieri con tutti i colleghi d'Italia, però è una comunità di dirigenti scolastici e di colleghi docenti che vuole tenere duro, che non vuole mollare e che non è assolutamente spaventata dal rischio di contagio. Bene, ringraziamo il presidente dell'Andis, Paolino Marotta, e ovviamente tutti noi ci auguriamo che davvero quando si ripartirà tutti quanti governanti, ma non solo, siano consapevoli che la scuola è un grande valore che va mantenuto e che va considerato nel modo giusto e soprattutto al quale bisogna dare le risorse necessarie per poter funzionare. Bene, grazie ancora Paolino Marotta. Grazie a te. Grazie a te.